Buongiorno, mio nome è Gian Paolo Ossia, sono professore associato a University Tover-Gatti in Roma. Sono un cardiologista interventuale, principalmente interessati a riparare trancatetor. Oggi ho chiesto di parlare di risposta di Maticlip e Fugio. Maticlip è una tecnica trancatetor per riparare trancatetor. È stato presentato per pratica clinica nel 2008 in Europa, più recentemente in USA e l'indicazione è per la degenerativa e la regurgitazione mitrali funcionali. I risultati clinici sono molto soddisfatti, quindi è stata una grande diffusione di questa tecnica negli ultimi anni. Ovviamente non è la terapia perfetta, ma funziona. sicuramente abbiamo avuto un periodo molto interessante perché stanno arrivando altri dispositivi per alternativi per Maticlip, sia per riparare trancatetor o per riparare trancatetor.